Il mio padre Il mio padre Il mio padre Che stai facendo? Non spiare. Quella è roba mia. Un quaderno? A che serve? Disegnare o scrivere le parole Quello che non vuoi dimenticare Aprimi la chiusa Ci faranno a pezzi lì fuori Devo trovare qualcuno che sta a leggere Dove sapete leggere? Devo sapere cosa dice questo Chi l'ha scritto? Era di mio padre. Dentro ci sono i suoi ricordi Tu sei sicuro di voler sentire? Sì Io non voglio ucciderlo Luca è diverso Mi dici come ti chiami per favore? Non lo so come mi chiamo Mio padre mi chiamava figlio Mio padre mi chiamava figlio Mio padre mi chiamava figlio E io non lo so come mi chiamava